mi presento sono guido sant'andrea sono direttore artistico di due spazi no profit che si chiamano almanac projects a londra almanac in a torino e sono qui con lorenzo balbi direttore artistico del museo d'arte moderna di bologna mambo e con greta schode e siamo qua per parlare del lavoro di greta in occasione di una mostra presso richard salton a londra che si terrà online e quindi sì vorrei ringraziarvi per per questa occasione per parlare insomma del lavoro di greta e che ormai ci conosciamo da parecchi anni mi sembra che un punto di partenza per parlare del tuo lavoro greta possa essere quello di partire dal ruolo della scrittura dal fatto che la tua pratica cerchi di andare oltre il linguaggio e oltre la rappresentazione nonostante la scrittura sia un elemento ricorrente nel nel tuo lavoro spesso la scrittura riveste riveste proprio le opere ripetendo il nome del supporto dell'oggetto e da questa ripetizione da questo gesto ripetuto di queste linee però risultano dei quelli che tu chiami punti di luce o delle delle vibrazioni quindi diventa una specie di partito di partitura di spartito musicale o o grafico dove i vuoti dei segni si riempiono d'oro e le parole diventano pure pure astrazioni pensavo che un punto di partenza appunto poteva essere guardare alcuni a questo aspetto del tuo lavoro in particolare a quello che che tu chiami punti luce possiamo ad esempio vederlo in questo lavoro del degli anni 80 mi chiedevo come sei arrivata a questi questo uso della scrittura questi segni a questi punti luce io mi sono chiesto cosa c'è dietro a un disegno e da 70 80 ho provato a fare un segno vicino l'altro per una settimana ho fatto nient'altro nessun altro disegno solo uno segno una linea vicino all'altra e quando ho riempito il foglio vedevo che ci sono delle differenze tra questi segni ogni segno ha un inizio una forza o una debolezza e allora ho proposto alla Xerox queste fotocopiatrici le fotocopiatrici una dall'altra 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 una cinquantina finché ho visto che c'erano dei punti rimasti perché perdeva sempre la densità e rimanevano dei punti e mi sono detta questa è una forma di codice che dentro di me che che sa di della mia vita della mia emozione perché ogni cosa che che pensi ogni momento che vivi lasci una traccia è una vibrazione di fondo si può dire e allora ho provato con diversi modi vedere come si può evidenziare finché dopo ho provato una parola è un è un mattoncino che viene messo uno vicino all'altro veste quel oggetto e è un'interazione del oggetto soggetto nel momento che si vive si mette il focus tutto sul sul oggetto nella ripetizione viene fuori questi punti luci che sono biprazione di fondo del 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 vissuto è un linguaggio praticamente il fondo del vissuto e ho applicato dopo a molti guardi questa cosa mi chiedevo se visto che ti sei formata a Vienna se non sbaglio agli inizi degli anni cinquanta mi chiedevo questo 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 se questo elemento d'oro abbia del del venga da da Vienna sicuramente perché ogni ambiente e il mondo è informazione ogni cosa che vedi ogni cosa che mangi ogni cosa che parli lascia delle tracce dentro di te e io vivendo a Vienna naturalmente ho assorbito il mondo di Klimt il mondo della secessione e poi l'oro per me è luce anche voglio illuminare questi momenti che non sono visibili nel lavoro che hanno una vita a se stesso magari può avere un qualche anche riferimento a delle influenze della cultura comunque non occidentale ma è penso che nel mio lavoro c'è molto anche un po' l'oriente l'applicazione il come un mantra il dedicarsi il metri focus a un oggetto perché l'oggetto fa parte del del lavoro e anche la ripetizione sì sì e più importanza il processo di quanto il lavoro stesso che rispetto al al fatto che questi elementi dorati vanno a cadere spesso nel negli elementi vuoti delle lettere non so se c'è una L o se c'è una G c'è il vuoto viene riempito poi dal dal loro questo pensavo anche al oltre alla ripetizione che può anche essere un mantra o un qualcosa di una preghiera ripetuta anche questa attenzione per per l'elemento vuoto ma il loro metto in un occhiello di una di una lettera anche perché mi serve come come modello perché non è che metto in qualsiasi punto metto sempre nello stesso se non avrei questa forma di vibrazione che esce e si va in sintonia si legge il mio lavoro non come come colore anche come colore come fondo come materia però soprattutto si percepisce questa vibrazione di fondo che come una comunicazione da tra me e l'altro che esce dal dal supporto riesce dal quadro sì l'altro l'altro tematica l'altro elemento centrale del tuo lavoro mi sembra che sia la sfera femminile o comunque la sfera anche la sfera domestica il prendersi cura proprio che va a far parte della 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 tua pratica tramite queste azioni che vengono ripetute nel nel corso del tempo con continuità e per questo mi ricordo quando sono venuto in studio da te uno dei 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 lavori che mi ha colpito di più è stato un lavoro che si intitola il primo universo adesso provo provo a condividere qui ed è un lavoro degli anni ottanta se non sbaglio e non so se se vuoi parlarci di questo lavoro si è un periodo che io mi sono detto voglio indagare se il segno che porta io sul mio corpo è il primo universo e ecco qui sembra un una costellazione infatti tutto il primo universo invece sono è l'impronto del mio cappessolo è il primo universo di un bambino e lì ho dopo fatto diversi lavori sulla sulla bocca sul dito sul talone tutti questi segni che portiamo sono tutti informazioni ogni viruga che abbiamo sul nostro corpo è un ricordo al momento che avevamo vissuto questa tutto questo lavoro è molto femminile molto penetrare nel sotto la pelle quasi nell'indagare su tutto quello che esiste intorno a me mi piace moltissimo il fatto che possa anche essere è solo attraverso un contatto il contratto il contatto tra appunto un neonato e la madre che ci sia la costruzione delle di questo universo comunque il contatto con l'altro è il primo il primo messaggio il primo significato che viene a formarsi e tramite appunto il contatto pelle a pelle a questo riferimento mi vengono in mente appunto i lavori che a cui fatto riperi qui hai fatto riferimento dove lasci l'impronta della pelle che siano i talloni o o mi sembra delle mani qui c'è un'immagine di questo lavoro dorato mi pare sempre degli anni 80 se non prima che trovo sempre molto interessante che sia un passaggio tra tra linguaggio che passa attraverso inevitabilmente attraverso il corpo sì questa attenzione su ogni linea che traccia c'è il tessuto che ogni cosa che succede lascia delle tracce che sono accidentalmente anche però in globo tutto è tutto tutto accolto un po' questo è molto femminile l'accoglimento il rivestimento il toccare il sentire e il maschile è più l'eruzione il dimostrare invece la donna è più apprendere accogliere mettere in evidenza tramite se stesso ma intanto è bellissimo ringrazio la galleria di chelto per averci invitato e averci dato la possibilità di questa bellissima chiacchierata con con greta schede io ho già raccolto secondo me stanno emergendo già molti elementi costitutivi del tuo lavoro si è parlato del dell'oriente si era si è parlato dell'applicazione dell'importanza del processo rispetto al lavoro stesso mi sembra che queste caratteristiche riflettano molto su quest'idea di ripetizione di gesto di serialità quasi di gesto calligrafico ripetuto in una ricerca costante di una perfezione o una differenza dal gesto precedente imparando da questa serialità si possa raggiungere una perfezione formale e in questo caso secondo me emerge anche una una performatività del gesto no una performatività della della processualità che metti in campo nella composizione artistica e la mia prima domanda era proprio questa quanto io so che ti sei occupata anche di eh interazioni con il pubblico di eh elementi veramente performativi che emergono dal tuo lavoro ricordo la performance con il tubo anche ehm esperienze vissute in spazi pubblici come una addirittura nella simbolica piazza maggiore di Bologna e se potevi parlarci di questo tentativo di di far scaturire la curiosità del pubblico di interagire con la percezione del pubblico in modo così performativo sì perché volevo tramite il mio lavoro coinvolgere e vedere eh quello che eh io dimostro e quello l'altro che vede che cosa possa ricevere anche perché siamo tutti connessi in qualche modo e se c'è una risonanza con l'altro entro dentro dentro anche nel lavoro eh e il mio lavoro è molto la ricerca dell'altro e della comunicazione con l'altro sì questo è il tubo e ti parlo quindi da esatto da voce in causa insomma io appunto parlo dal Mambo del Museo d'Arte Moderna di Bologna e mi incuriosisce molto volevo chiederti se potessi parlarci un po' di questa performance però era nel periodo in cui vivi da tanti anni sì nel settantotto con Nina Migliori che abbiamo questo tubo praticamente l'ho trovato davanti allo studio era un tubo dal moquette perché io molte volte metto il focus a a un oggetto che mi espira che può diventare anche un'altra forma e trasmettere qualcosa allora ho scritto tubo 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 e ho fatto questa questa doratura che sembra quasi anche una spina dorsale un qualcosa è detto vorrei la reazione cosa Bologna dice in questo momento ed era il 78 con Aldo Moro era il periodo e abbiamo fatto una registrazione che ho tuttora in casa con che questi campanelli si chiamavano che una di domenica e ho tutta la registrazione anche in violetto uno dice una cosa no è pericoloso ma è una cosa religiosa perché vedeva più loro tutte queste insieme cosa un altro essere penso stimolando 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 da questo lavoro eh comunque l'attenzione che che poni a a questo oggetto come come hai detto un oggetto trovato trovato al di fuori dello studio eh mi mi allaccerei per per fare un'altra riflessione sull'uso dei materiali all'interno della tua pratica artistica eh abbiamo già visto un po' una carrellata di alcuni esiti di alcune opere eh che contraddistingue la tua produzione di molti decenni e in molti casi questi i materiali di partenza eh i materiali costitutivi delle tue opere su cui si innessa quella processualità di cui abbiamo parlato sono materiali eh riutilizzati materiali eh a cui viene dato una nuova vita un nuovo significato per citarne alcuni sono lenzuoli tele eh tele danneggiate durante l'alluvione di Firenze magari eh di raccontarci questa storia camice libri di preghiere carte geografiche sulla cartografia ci sarebbe molto da dire e altri sono addirittura materiali eh naturali organici come anche i lavori che hai fatto con con le piante e questo tipo di materiali offre la possibilità di aggiungere un di complessità di complessità ulteriore ai lavori che quello della stratificazione temporale si mischia il tempo proprio del materiale con il tempo invece della rialaborazione dell'artista cosa ti interessa e qual è la scintilla che ti fa partire nella scelta di questi materiali? Per me il quadro non è un oggetto di oggi e si inserisce nel tempo io ho usato molti libri antichi di preghiera li ho cancellati dopo questo eh ho usato foglie l'ho riscritto in un'altra epoca perché questa contemporaneità per me il tempo non esiste perché è un lavoro l'ho fatto magari nel settanta però nel sessanta avevo già il libro lì e ho dei dei fondi che sono di vent'anni fa magari il momento viene il focus viene in un altro momento io non voglio dare neanche tanto le le date perché i lavori sono eterni e hanno anche hanno un passato e anche un fattura che questi punti luci viaggiano dopo queste immagini sono liberi ognuno interpreta a modo suo secondo la cultura secondo l'epoca tutto influisce su tutto questo poi soprattutto vediamo oggi nella fisica quantistica perché tutto è connesso non esiste un momento esistono il tempo per me è tutto sono tutti punti che si ripetono uno dopo l'altro però tutto è sempre presente e questa è una natura per me è molto importante perché sono nata in una specie di giardino quindi io unico allora i miei compagni erano i sassi e le foglie e faccio tuttora la stessa cosa solo che più con coscienza e con coinvolgimento dell'altro i parallelismi tra il mondo della natura ma anche il mondo agricolo il mondo della cultura della cultura dei campi e i parallelismi con questo mondo il mondo naturale i tuoi lavori sono moltissimi e questo tipo di approccio processuale di cui abbiamo parlato di cui abbiamo fatto riferimento ha una testimonianza diretta anche nelle datazioni dei lavori che spesso indicano degli intervalli di tempo anche molto lunghi proprio seguendo un po' quello che stavi dicendo sulla continua metamorfosi erile possibile dei tuoi lavori quindi il ruolo del tempo e le potenzialità del tempo aumentano di significato e assumono un ruolo centrale all'interno del tuo lavoro e volevo però chiederti una visto che parlavamo dei materiali per quanto riguarda la scelta di questi materiali che cosa ti attrae del materiale di partenza abbiamo parlato di alcuni materiali che sono ad esempio delle testimonianze storiche come le tele che vengono all'usione di trenze altre che sono delle carte geografiche che anche qui testimoniano un passato e anche delle presenze politiche diverse che cosa ti fa partire nella scelta del supporto di partenza Ma per esempio io qui anche questo vi faccio vedere è una foglia vicino al mio studio c'è un albero che ho raccolto migliaia di fogli li ho presati e ogni foglia ha dato un messaggio e questo nel 70 75 a Vienna ho fatto una gran piramide è stata una specie di performance anche appiccicati e ognuno poteva prendere scegliersi la foglia e comprare una foglia e comprare una foglia portasselo io perciò quest'albero ha riunito tante persone che portano questi questi segni segni di oro e rispecchia anche la nostra vita perché anche noi siamo fogli della vita e lasciamo delle tracce luminose agli altri Sì sì era una a Vienna non avevo una galeria dopo due tre volte e sono adesso a Londra da galeria salto Mi sembra che la tua ricerca l'andare una ricerca legata all'invisibile la ricerca dell'invisibile passa appunto attraverso anche quei soggetti che sono che non parlano appunto gli elementi naturali le piante Prima hai citato la fisica quantistica quindi elementi minuscoli che non possiamo neanche vedere E parli soprattutto anche di interazioni di contatto di vibrazioni o di risonanze E questo relazionarsi che si ha con degli oggetti o con degli altri soggetti nel mondo naturale E' volto a un cercare di cogliere un sentire emozionalmente E quindi sì mi interessava questo appunto questo tuo rapporto con la natura E col prendersi cura anche di elementi che non sono puramente umani ma anche che fanno parte della sera non umana E mi sembra che la serie di lavori che adesso presenti in mostra con Richard questi marmi sia un ottimo esempio Sì anche i marmi io non è che scolpisco marmo Io li ho trovati li ho trovati e mi hanno affascinato E li ho rivestiti di questo suo nome E sentite nel calore che prendono mentre lavoro Ogni cosa ha una intensità E un umile oggetto che viene portato via Si può dare un significato che può dare una nuova vita che comunica con 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 altri E esprime in altri un qualche cosa che hanno dentro Sì e questi sono mi pare che tu abbia iniziato a fare queste serie nel già negli anni fine anni settanta Mi piace molto il fatto che mi descrivevi il tuo modo di lavorare con questi questi marmi Appunto di un contatto di un dover sentire E poi dare un significato scrivendo sopra dando i nomi la parola a questi elementi silenziosi in un certo senso Sì il marmo mi ha dato soprattutto questa sensazione tattile Questo marmo che si vede qui che fa parte di un trittico che fa il battaglio nel 78 credo E rispecchiava la donna la bellezza della donna perché è stato fatto sempre nei tempi in marmo di pario Poi aveva l'asse da stiro che abbiamo anche questo qui che rispecchia il lavoro duro della donna Perché era destinata al lavoro di stirare E aveva un lenzuolo, il telo che faceva parte dell'emotività Perché voleva buttare via già un lenzuolo con una toppa Ma ha detto ma è il telo della vita Chissà se sono nato qui sopra Generazione magari prima i nonni sono morti Ha intrinseca un'emotività, una vita sé che voglio tirare fuori Che voglio onorarlo, voglio portare ad oggi Diventa questo asso da stiro diventa una presenza quasi totemica Sì, è il lavoro della donna C'è anche il fatto che con questo tuo lavoro annulli la differenza tra un soggetto e un oggetto in un certo senso Sì, è vero, è vero Io l'oggetto umile voglio portare ad oggi Dare importanza che non ha mai avuto E questo forse è il futuro che debiamo dare Non dobbiamo apprezzarsi solo quello evidente Dobbiamo cercare in ogni piccola cosa Può essere un mondo nascosto Dipende solo da noi che relazione diamo Visto che parli di relazioni, di interazioni Mi chiedevo quali sono stati nel corso della tua vita Insomma, gli incontri I contatti che sono stati importanti per te Per il tuo lavoro e per la tua ricerca Ma anche per te Ma io sono stata sempre un po' più riservata Comunque tutto mi ha influenzato Perché non c'è niente che non entra dentro di noi Tutto quello che tocchiamo visivamente o con le mani Abbiamo un'interazione che ci influisce Perciò la città, Vienna mi ha influenzato L'Italia mi ha influenzato Il mio giardino mi ha dato Ogni cosa che si incontra Si ha un'interazione E questa è anche l'essenza della vita Perché non siamo noi per noi stessi Dobbiamo comunicare Perché nel comunicare, nello scambio di vibrazione C'è la vita Questo è veramente molto bello E volevo chiederti un'ultima cosa Spesso nei tuoi lavori si respira O comunque approcciando il tuo lavoro Noi l'abbiamo fatto brevemente Con queste pillole, diciamo Si respira uno senso di stasi Un senso di attesa temporale Che al giorno d'oggi Pare quasi in contraddendenza Nella vita contemporanea Che è fatta di accelerazione Fatta di bombardamenti di immagini Di tempi ristretti Tu pensi che questa caratteristica Un po' del tuo lavoro Avrà una modificazione In seguito a cosa sta succedendo Alla contemporaneità Alla vita di tutti O vuoi preservare questo tipo di atmosfera Che c'è sempre Per chi si pone davanti ai tuoi lavori Ma io do solo uno spunto Io do uno spunto visivo E ognuno piace Pissi in un altro modo Perché ognuno ha un'altra storia, Pietro Perciò il mondo lo vede Dal suo punto di vista Dal suo condizionamento Anche il condizionamento Dall'ambiente, dalla cultura Dalle religioni Mille cose E questo è quello che voglio dare all'altro Uno spunto Un dire Vedi, cosa dici tu? Bene Grazie mille Grazie mille per questa bellissima Grazie anche a lei Grazie 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 Grazie.